Allora, buongiorno, buongiorno, eccoci qua nuovamente, una puntata, un nuovo episodio dei video di Cesare Martignon sul canale Cesare Martignon su YouTube, un po' temi di vario tipo, ma una vicinanza particolare ce l'abbiamo e ce l'ho sempre avuta nei confronti del mercato dell'auto, in particolare del car sharing, del car sharing elettrico, e nel mondo del car sharing elettrico ho avuto modo di conoscere Erasmo Paone, che saluto collegato da Roma. Buongiorno Erasmo, buongiorno a tutti, buongiorno Cesare, buongiorno Erasmo, allora è molto importante, molto interessante in questo periodo affrontare un po' tutti i temi dell'economia in generale, ma un tema fondamentale un po' per il mercato europeo, per il mercato italiano è quello delle auto, è una vita la tua professionale, caro Erasmo, dedicato al mondo dell'auto, al mondo del noleggio in generale, hai lavorato nell'ambito del leasing finanziario, una lunga carriera che ti ha portato a diventare direttore generale del gruppo Europe Car Fleet Services e poi amministratore delegato del gruppo Lease Plan, per il quale hai guidato la fusione con Europe Car Fleet Services. Tutte queste esperienze hanno anche un'importante collaborazione a fianco del compianto Marchionne, come vicepresidente esecutivo del gruppo Fiat e presidente di Fiat Auto Bar. Erasmo, allora, la domanda di tutti, come ripartiamo? Come si fa a guardare al futuro, a guardare al mondo dell'economia, al mondo dell'auto, dopo un periodo di due mesi di stop totale, quasi come se fosse una guerra, una cosa storica che nessuno potrà più dimenticare, che nessuno può non considerare? Guarda, l'anno scorso, come capita quasi tutti gli anni, abbiamo fatto un esercizio previsionale che si è rivelato particolarmente preciso. In quel caso c'è un re-trend in corso, dei nuovi trend che abbiamo appena identificato, quale per esempio la demonizzazione del diesel, la crescita dell'elettrico, e siamo riusciti a essere anche in questo canale molto precisi. Quest'anno è tutto eccezionale, come tu mi dicevi. I numeri fatti fino ad oggi non contano, il meno 90, il meno 97, non dice nulla, sono i numeri di un'attività che è praticamente chiusa. Quindi si tratta veramente di capire se il SARS-CoV-2 e tutto quello che ne è scaturito hanno comportato una modifica sostanziale ai trend. Tra l'altro la notizia di ieri che i concessionari sono aperti, ma giusto per capire che siamo ancora in piena emergenza, ieri sera è arrivato un chiarimento che i clienti non possono andare nei concessionari. Cioè che non è una motivazione valida quella di andare a comprare un'automobile. Quindi siamo nella situazione in cui non so se quasi se a un concessionario conviene aprire, forse ne potrebbe ancora utilizzare la cassa integrazione. Comunque sicuramente apriranno a scartamento ridotto. Ora, devo dire che ho notato innanzitutto che il settore dell'auto, come da diversi anni ormai a questa parte, non ha brillato per capacità di reazione. Cioè sono continuate le pubblicità classiche, i modelli classici, quasi come se nulla fosse successo, quasi come se fosse una vetroliera per la quale è molto difficile invertire anche di un grado la ruota. E ora, per me questa reazione delle case è insufficiente. Tu prima hai parlato del noleggio, ci torneremo, spero, maggio, nel corso dell'intervista, ma per esempio nel noleggio lungo a termine non è stata emanata nessuna norma, né nessun accordo tra le case per come gestire questa situazione. Per cui ci sono i clienti che sono in grande difficoltà, non possono pagare i canoni, ma non c'è stato un accordo del noleggio simile a quello per esempio che è accaduto per i mutui, dove almeno si sono rinviati di sei mesi. Ora, tutto questo mi fa pensare che il settore dell'auto, che è un po' in crisi permanente, salvo ribalsi, dal 2008 ormai, sono 12 anni, non sia altro che il sintomo di un modello di mobilità e di distribuzione che inesorabilmente sta cambiando e quindi ogni anno si dimostra più inadeguato. Allora ho fatto un esercizio all'interno di un master in cui sto tenendo delle lezioni all'Università di Roma, ovviamente senza il contatto con gli studenti, e ho provato a buttaggiù, Cesare, degli elementi di analisi che siano comprensibili per tutti. Cosa io vedo come elementi negativi di queste cose? Innanzitutto un'incertezza tecnologica. Ci sono delle macchine molto belle che sono state messe in commercio, ma che rappresentano una tecnologia di dieci anni fa, quindi molta meccanica, diciamo così, motori tradizionali, e noi sappiamo che purtroppo abbiamo avuto un segnale proprio qui nella capitale quando è stato fermato anche l'Euro 6, cioè quella è stata diciamo una dichiarazione proprio fortissima che secondo me è destinata a incidere molto sul mercato. Secondo punto, quindi incertezza tecnologica, che se anche mi volessi impegnare, oggi avrete dubbi su quale macchina comprare. La seconda è la bassa priorità, cioè secondo me in questo momento con le aziende chiuse, le persone in cassa integrazione, parenti che non ci sono più, eccetera, eccetera, probabilmente l'automobile è una priorità solo per chi è veramente forzato a comprare, quindi ci sarà un rinvio delle decisioni di acquisto. Terzo punto, per lo stesso motivo c'è una difficoltà economica generalizzata anche in fasce di consumatori medio-alti e quindi ci sarà una scarsa propensione agli acquisti. Si tenderà di, anche qui, diciamo anche questo è un fattore che porterà a un rinvio della domanda. Mi viene facile immaginare che molti diranno, beh, porto avanti la vecchia carretta e poi vediamo. E infine abbiamo una domanda per il noleggio a prevermine che sicuramente si sarà quasi azzerata, in quanto il noleggio a lungo termine sta vivendo un momento di straordinaria difficoltà. A differenza di quello di lungo termine, che essendo un punto di lungo termine deve gestire dei trend, ma ha anche dei tempi di riazioni più comodi, diciamo, il noleggio a breve in questo momento è fermo e i grandissimi leader di mercato stanno tutti in grandissime difficoltà. E non è una difficoltà del mercato nazionale, ma del mercato internazionale. Quindi non trovano supporto nelle case matri che hanno lo stesso problema in tutte le nazioni. Questa è un'immagine piuttosto negativa, no? Nel senso non ho messo a disposizione strumenti particolari, nel noleggio a lungo termine non ho reagito, incertezza tecnologica, bassa propensione agli acquisti, difficoltà economiche e noleggio a breve termine. Ho cercato anche di vedere un po' di luce in questo scenario e questo scenario mi fa notare che, sempre partendo dalle nostre precisioni, dalla nostra precise previsione dell'anno scorso, in realtà siamo rimasti sorpresi da un elemento. Gli ultimi due mesi dell'anno sono stati molto positivi e hanno permesso di recuperare quel gap del 4-5% che si era accumulato durante l'anno. Quindi, se tanto mi da tanto, c'erano dei buoni presupposti per l'inizio del 2020. Il secondo elemento mi fa pensare sono gli incentivi di cui si comincia sempre più insistentemente a parlare, che andranno però esclusivamente verso motorizzazioni elettriche o ibride e che saranno forse più forti, ma anche qui è tutto un'ipotesi, quindi siamo in ritardo anche su questo, e forse una difficoltà nei trasporti pubblici che potrebbe, diciamo così, essere un fattore che incide, nel senso che oggi mi fido di meno di prendere il trasporto pubblico, se ho dei soldi da parte mi faccio magari una piccola macchinetta o quando ripartirà potrebbe essere questo un fenomeno che dà aiuto anche al carscenico. Di conseguenza, questa analisi che non mi vede, come capito, ottimista, ma anche non gettiamo le armi, mi porterebbe a ipotizzare circa 1.300.000-1.350.000 immatricolazioni verso il 1.916.000 dello scorso anno, quindi una caduta del 30%. Poi qui ci sarebbe da farsi una domanda, come resisterà questo settore a un'ulteriore caduta del 30%, ma questo è un altro discorso. In uno scenario così delineato, Erasmo, il fattore del prezzo del petrolio molto basso ha delle ripercussioni sullo sviluppo del mercato dell'elettrico? Guarda, teoricamente potrebbe avere ripercussioni sul mercato dell'elettrico, nel senso di dare un soffio di vita a motorizzazioni che consumano benzina o anche il diesel. Innanzitutto io non ho notato un crollo alla pompa, cioè c'è stata una diminuzione, però non è che oggi andiamo a pagare un litro di benzina a 50 centesimi, eppure il petrolio si è addirittura andato, l'abbiamo letto, in negativo, anche se quello è un fenomeno di borsa legato ai futures, però insomma potremmo dire che il valore normale del petrolio in questo momento è del 20-25 dollari al barile. Parlo del Brent, che è il nostro punto di riferimento. Altrettanto sono certo che già dopo l'estate il petrolio sarà nuovamente ai colori di una volta, perché se c'è ripresa, e quindi sai, essendo un'automobile, un acquisto di lungo periodo, l'idea che io risparmi pensando che nei prossimi tre anni il petrolio rimane a 25 euro al barile, non c'è. Quindi direi che può essere una componente emotiva, nel senso di oggi, ma non una componente razionale. Io penso che il mercato continuerà con i trend che comunque aveva già mostrato nel 2019, come mix di prodotti. Quindi in questo punto si inserisce l'argomento inquinamento che con il lockdown è venuto fuori, cioè il pianeta è sembrato respirare con tutti i mezzi fermi, i voli aerei fermi, ed è venuto fuori anche un po' il discorso dell'inquinamento che fa male alla salute, come una possibile causa o con causa della propensione al contagio da coronavirus. Questo tema dell'inquinamento, collegato al petrolio e collegato all'elettrico, Erasmo, ha un peso nei ragionamenti dell'economia dell'auto nel 2020? Dovrebbe averlo. Mi fa piacere, se i nostri ascoltatori ci seguono un attimo, anche fare una piccolissima panoramica di quello che è successo nel mercato elettrico nel 2019, perché è un po' sorprendente. Però ci porta esattamente alla domanda che tu hai fatto. Nel 2019 noi abbiamo avuto una flotta di elettrico che è cresciuta in tutto il mondo di circa un milione e mezzo di veicoli, arrivando a una quota globale del 4%, verso i 4 milioni di veicoli del 2018, con una quota globale del 2,2%. Quello che però è sorprendente, proprio per questi studi recenti che stavo portando avanti, è che in Cina, che è la patria dell'elettrico, non so se questa è una notizia ormai diffusa, comunque diciamo che la Cina è la patria dell'auto elettrica, c'è stato un incremento clamorosamente basso, cioè solo il 3% nel 2019. La Cina rappresenta ancora il 53% delle vendite di elettrico del mondo, capiamoci, metà del mercato elettrico è in Cina, e quel mercato lì è cresciuto solo del 3%. Il mercato è addirittura sceso in Giappone e in America, in America è sceso addirittura del 12%. Allora questo potrebbe far pensare al fatto che il fenomeno dell'elettrico si sia sgonfiato, perché se la tre patrie dell'elettrico, cioè la Cina, il Giappone e gli Stati Uniti, realizzano risultati così, ovviamente c'è da farsi qualche domanda. Arriviamo però all'Europa e leggiamo più 44%, quindi il vecchio continente, dove la qualità della vita è tenuta in grande considerazione e dove ci sta forse la popolazione mediamente più ricca, ha risposto in modo completamente opposto al resto del mondo. Quindi al più 3% della Cina, al pareggio del Giappone e almeno 12% degli Stati Uniti, ha risposto un più 44% e quindi globalmente l'elettrico è cresciuto. Va anche detto che io non sono un grande esperto di cultura americana, però sono rimasto altresì sorpreso del 20% di crescita dell'elettrico in Canada. Quindi abbiamo gli Stati Uniti meno 12% e Canada più 20%. Ora probabilmente qualche amico più esperto di quell'area geografica ci dirà che Canada e Stati Uniti sono solo apparentemente simili, però insomma da italiano e poco esperto, come ho dichiarato, sorprende anche questo dato. Allora in questo scenario sicuramente... Ah, poi se sei curioso ti posso anche dire che la macchina più venduta elettrica al mondo tu la conosci bene perché sei stato uno dei primi a provarla e abitare l'Italia e quindi è un antesignano e la Tesla. Al secondo e terzo posto ci sono le macchine cinesi che non vengono vendute in Europa, quindi aspettiamoci che i cinesi se hanno un problema sul mercato interno cercheranno di sfociare su quello europeo con prezzi che sono anche del 30% più bassi delle nostre vetture. E ricordiamo anche che la Cina produce il 92% delle batterie, quindi l'inaffidabilità del prodotto cinese in questo caso però si scontra col fatto che una macchina elettrica inesorabilmente ha un cuore cinese o per tutti, anche per... E quindi diciamo ci sono questi segnali contrastanti. Io penso che il Covid abbia in qualche modo reso la popolazione più sensibile alla tematica dell'inquinamento e noi sappiamo che oggi siamo arrivati all'Euro 6, che l'Euro 6 per la prima volta si è diviso in quattro sottogruppi, quindi giusto per confondere l'idea dei consumatori che non sono tecnici e dovrebbero invece essere aiutati nelle loro scelte, oggi noi ci abbiamo l'Euro 6D, cioè ci avremo l'Euro 6D che diciamo così praticamente tiene conto sia del nuovo metodo di rilevazione su strada che si chiama WLTP, Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures e del fatto che le prove adesso si fanno su strada e non più in laboratorio. Questo come tu sai creò un scompenso nel mercato nel 2018 perché ad agosto avremo un boom di svendite di vecchie immatricolazioni e da settembre del 2018 ci sta questo WLTP che diventerà ancora più severo dal 1 gennaio 2021 e qui torniamo, vedi come tutto torna Cesare, anche all'incertezza tecnologica. Cioè io oggi con una macchina che è apparentemente immatricolata in un certo modo tra sei mesi con la stessa macchina c'era un'altra immatricolazione e dirà più, diciamo così, più fedelmente quant'è l'inquinamento e il consumo che quella macchina produce. Ogni approssimazione che noi facciamo e ricordo che il dottor Marchionne diceva che oltre l'Euro 6 era già una soltita tecnologica diciamo così difficilmente raggiungibile veramente e poi tutti gli scandali del Dieselgate eccetera ce l'hanno dimostrato. Oggi diciamo le macchine inquinano molto, molto, molto meno del passato e soprattutto questi dati sono dichiarati oggi. però se andiamo a vedere quello che è successo nel mondo Cesare, l'inquinamento è calato del 45% a Madrid del 47% circa a Roma e Milano e del ben 55% a Parigi. Ora, questo rende evidente e la popolazione se ne sta rendendo conto che c'è un contributo all'inquinamento dovuto all'uso dell'automobile. Adesso in più è uscito fuori questo studio dell'Università di Awad peraltro condotto da un'italiana la dottoressa Dominici che il Covid-19 è più letale dove c'è più inquinamento. Questo perché si dice diciamo che le particelle il particolato possa essere un conduttore che allunga da un metro a quasi 10 il raggio di contagio per la permanenza nell'aria. Quindi sono temi che io immagino sono entrati attraverso i telegiornali in tutte le case e sono temi che sicuramente oggi difficilmente la popolazione accetterà per un lungo periodo di tornare indietro, punto e basta, ecc. Ora, per approfondire questo discorso che per cui sono state molte polemiche in realtà quello che abbiamo scoperto è che mentre il particolato non è molto cambiato cioè è sceso ma non in maniera drastica perché è prodotto anche da altri agenti inquinanti principalmente riscaldamenti ma anche dalle ruote, dai freni quindi qualunque mezzo anche l'autobus produce particolato quello che è molto evidente invece è il crollo del diossido di azoto quindi possiamo dire che questo mega esperimento non voluto ha fatto sì di dimostrare che il problema vero delle automobili è il diossido di azoto che per essere amici dei nostri ascoltatori perché prima abbiamo chiesto semplicità e adesso stiamo parlando in termini un po' più complessi ma necessariamente è nel vostro libretto di circolazione sta nel V3 cioè V sono le emissioni di gas di scalico V3 di ossidi di azoto V5 di particolato V7 di CO2 quindi se volete vedere quanto la vostra macchina contribuisce con le attuali metodologie di analisi e che peggiorerà quando le metodologie di analisi saranno ancora più corrette andate a vedere le voci V3 e V5 e V7 ce l'avete scritto sul libretto Molto bene Erasmo grazie molte di queste informazioni ti voglio fare un'ultima domanda il modello della mobilità per quanto riguarda la condivisione dei mezzi in generale la condivisione dei mezzi ma anche il modello della mobilità in tutte le sue complicazioni come prevedi che si sviluppi la mobilità? parliamo del monopattino parliamo della bicicletta a pedalata assistita parliamo di una sensibilità maggiore anche nei confronti di questi mezzi da parte delle istituzioni qual è la tua riflessione su questa cosa? guarda io parto col dire che ci dobbiamo fare una domanda che i giovani soprattutto se la fanno perché hanno altre priorità di consumo è la mia auto o è un mezzo di trasporto? perché se è la mia auto io continuo a preferire ovviamente le auto sexy come se è la mia donna preferirò la donna sexy se è un mezzo di trasporto a fare una scelta più razionale che potrebbe essere anche un mix di scelte le auto oggi costano care inquinano stando molto tempo ferme evolvono rapidamente perdono di valore sono troppe non sono più iconiche e quindi ogni auto che noi abbiamo pensiamo sempre che ce ne serve anche una diversa questo non ci porta altro che ai nuovi modelli di mobilità che possiamo ridurre sostanzialmente in due categorie in due assioni uno il modello ASI cioè avoid quindi cerca di evitare gli spostamenti inutili e credo che questa intervista sia un esempio come tutte le attività che abbiamo svolto in questi giorni abbiamo continuato a lavorare forse ancora di più e abbiamo evitato milioni di chilometri di spostamenti inutili e a questo punto questo sarà sicuramente un'eredità di questo periodo shift cioè cambia mezzo di trasporto secondo le tue esigenze e invest in technology quindi arriviamo a quello che più generalmente viene definito il modello MAS cioè mobility as a service quindi io mi devo muovere solo quando è necessario e non è mai il mio movimento una volta sono solo una volta sono con la famiglia una volta devo andare a sciare una volta devo andare ad un appuntamento di lavoro in una grande città non è mai lo stesso e non può esistere un veicolo che sia idoneo per tutte queste esigenze quindi sicuramente il mercato può avere qualche scossone qualche cosa un anno due ma sicuramente si va verso un'evoluzione delle metodologie di uso quindi il car sharing per gli usi in noleggio sono sicuramente delle formule che diciamo così socio-economiche oltre che tecniche di di movimento quindi io vedo per loro comunque un futuro non nell'immediato perché c'è questo problema oggi del distanziamento sociale e quindi oggi ovviamente il car sharing può soffrire per questo perché se tu mi chiedi di igienizzare un'auto ogni volta che la usa e ci sono dei noleggi di 16 minuti ovviamente il costo salirebbe alle stelle certo e quindi è impossibile però nel medio lungo periodo non c'è dubbio che questo sarà il trend di mobilità benissimo Erasmo grazie per il tuo tempo grazie di essere stato con noi ci risentiremo presto magari tra qualche settimana per fare un punto di come le cose si sono sviluppate perché gli sviluppi sono quasi settimanali diciamo gli scenari cambiano molto velocemente un nuovo mondo quello che stiamo affrontando grazie Erasmo e un saluto a nostri ascoltatori voglio dare un'ultima notizia se mi permetti certo allora una riflessione per i nostri ascoltatori la Nissan durante questo periodo cioè fine di marzo ha realizzato 370 chilometri in guida autonoma in Inghilterra su strade non su strade statali quindi non predisposte e chi ne sai che questo non sarà un altro gran trend di cui parlare molto presto per la guida autonoma certo perché 370 chilometri su strade normali insomma c'è esiste certo certo molto bene grazie Erasmo un saluto a tutti i nostri ascoltatori grazie un saluto arrivederci grazie a tutti